Benvenuti a Canadian Solar, la stessa di Canadian Solar qui alla K-Energy. Oggi presentiamo in anteprima in Italia il nuovo prodotto storage per il residenziale, un sistema monofase all-in-one con inverter, ibrido e batterie integrate. Il sistema è un sistema ultracompatto dal design innovativo, con un sistema modulare che va con una capacità da 6,6 fino a 19,9 kWh. È un sistema monofase che ha una uscita di 6 kW sul lato AC, quindi verso la rete, quindi limitato secondo l'EC021 e un'uscita invece di backup con un sistema booster che arriva fino a 7,6 kW continui. Il prodotto verrà certificato a giugno-luglio di quest'anno e quindi sarà pronto per l'installazione. L'installazione è un sistema modulare, come ho detto, con sistemi a batteria a innesto rapido, quindi senza cavi, quindi per l'installazione è un sistema assolutamente molto facile e semplice da installare e velocizza ovviamente l'installazione. Con questo è tutto, vi aspettiamo al nostro stand per vederlo di persona. Grazie. 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 Grazie.